Sono partiti questa mattina i lavori promossi da ANAS per la realizzazione di una barriera spartitraffico che incrementi la sicurezza lungo la strada della Siligata, nel tratto compreso tra il concessionario BMV e l'ingresso del centro abitato di Colombarone. Il completamento dell'operazione, dal costo complessivo di 1.600.000 euro, è previsto per il mese di giugno. Il progetto iniziale però è stato rivisto, come spiega la presidente di quartiere, Yolanda Filippini. L'installazione della barriera spartitraffico nell'iniziale programma di ANAS prevedeva la sua collocazione su tutta la carreggiata del tratto, che dicevo prima, senza prevedere nessuna sua interruzione, creando di fatto la divisione del centro abitato in due parti, con gravi disagi ai nostri residenti e alle attività commerciali del luogo. Il quartiere ha fortemente contrastato questo progetto con altre soluzioni, in grande sinergia con l'ente Parco San Bartolo, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e, devo dire, con la disponibilità riscontrata da ANAS, ha ottenuto comunque un'importante variazione, e cioè il New Jersey verrà interrotto, quindi la carreggiata libera, nel centro abitato di Siligata, con la realizzazione di due rotatorie all'inizio ed alla fine delle barriere che permetteranno la svolta per il cambio di marcia. La rotatoria, quella all'ingresso di Colombarone, riducendo naturalmente la velocità, metterà in sicurezza anche il centro abitato di Colombarone. Altra battaglia portata avanti dal quartiere per incrementare la sicurezza della strada è quella della realizzazione di un'ulteriore rotatoria ad altezza di Fiorenzuola di Focara. Con orgoglio possiamo finalmente comunicare che ANAS è pronta ad iniziare l'opera della rotatoria del valore di 900 mila euro. Sono in via di definizioni gli espropri dei terreni da parte del Comune e nella primavera prossima ANAS aprirà il cantiere appunto sulla realizzazione della rotatoria. Devo dire che questi due rotatori, due torni indietro, si vanno a sommare alla rotatoria che ANAS sta progettando e che dovrebbe definire i progetti entro il mese di marzo in corrispondenza dell'incrocio di Fiorenzuola, permetteranno di avere entro poco tempo tre rotatorie, quindi tre possibilità di poter fare inversione di marcia in massima sicurezza.